Controlli rafforzati lungo le vie dello shopping, massima attenzione alle attività di ricezione e ristorazione, uso della mascherina all'aperto in giorni orari stabiliti con un'ordinanza firmata dal primo cittadino Paolo Truzzo. Le manifestazioni saranno consentite non più nel centro della città, ma in aree periferiche individuate dalla Questura. A partire dal prossimo fine settimana sarà stretta sulla corretta applicazione delle norme a Ticontagio, non solo nel capoluogo ma in tutta la provincia. Per quanto riguarda i controlli sui mezzi pubblici si attendono ulteriori indicazioni dal Ministero. Controlli che però saranno ovviamente intensificati in quanto è prevedibile che ci sarà una maggiore concentrazione di persone nel periodo delle feste natalizie e soprattutto nei luoghi dove c'è il cosiddetto shopping e quindi le persone si recano per fare degli acquisti. A volte si tratta di luoghi anche di strade piuttosto strette per contenere un numero di persone, quindi dobbiamo essere tutti sicuri e tranquilli di fare quello che è necessario per evitare la diffusione del contagio.